Nuovo traguardo storico per il Bitcoin che ha superato i 69 mila dollari con una crescita di oltre il 5% questa settimana. Dal novembre 2022, dopo essere sceso sotto i 20 mila dollari, ha guadagnato il 300%. Questo incremento rappresenta un nuovo apice per la criptovaluta, il cui precedente massimo era di 68.991 dollari raggiunto nel novembre 2021. La spinta al rialzo del Bitcoin è attribuita alla sua maggiore accessibilità per il trading in un contesto di scorte limitate.